La Terra ci è stata affidata perché possa essere per noi Madre, capace di dare quanto necessario a ciascuno per vivere. Una volta ho sentito una cosa bella. La Terra non è un'eredità che noi abbiamo ricevuto dai nostri genitori, ma un'emprestito che fanno i nostri figli a noi perché noi la custodiamo e la facciamo andare avanti e riportarla a loro. La Terra è generosa e non fa mancare nulla a chi la custodisce. Con la Terra, che è madre per tutti, chiede rispetto e non violenza, e pecio ancora arroganza da patroni. Dobbiamo riportarla ai nostri figli, migliorata, custodita, perché è stato un imprestito che loro hanno fatto a noi. L'atteggiamento della custodia non è un impegno esclusivo dai cristiani, riguarda tutti.